Non ci sarà contatto, sono solo cattà, qui ha fatto parlare, esatto, questa sono cattà, tutti loro, è molto forte qua, procedura, procedura. La spada se non si muove, è un modo prodotto di un'arca, potremmo essere fatta a taglio preciso. Lo dovete fare, questo è stato un saluto, un saluto a Sani, un saluto al Coggio dove si tratta, un saluto alla disciplina e un saluto alla Sata, perché è un'inforziata per quello che ci farà provare, perché lo lago da un'arte di guerra è diventata. Anche nel Tashin è previsto l'uso delle armi con altre attività come l'Akido, anche oggi non è più presente, c'è anche il corso di Akido presso la palestra Samurai. Tutto questo serve a imparare a coordinare il corpo, la mente e lo spirito. dietro questa disciplina c'è una filosofia, non è solo usare una spada per uccidere, ma c'è un corso interiore, bravo Guagliano, purtroppo oggi è solo, ma nonostante questo lui è venuto, sedo le spalla. Saluto, eh? Sopra, devo fare lì. Ok, allora mi intervisto a Devo di venire. Bravo, io l'applauso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci, eccoci, eccoci. Prima, bene. Eccoci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.